Ciao ragazzi, oggi parliamo di una battaglia molto importante nella storia, cioè la battaglia di Attin. La battaglia di Attin è una battaglia decisiva, un autentico spartiacque tra ciò che è successo fino al 1187 e poi successivamente dopo la battaglia di Attin. È veramente un momento decisivo della storia. Per comprendere le dinamiche che portarono alla battaglia di Attin fra crociati e musulmani occorre capire con attenzione gli antefatti e la situazione esistente prima del fatidico 1187, l'anno che cambiò la storia. Infatti nel 1187 il conte di Tripoli era un certo Raimondo, personaggio molto influente e saggio. Tripoli la vedete nella cartina segnata di rosso e qui vedete appunto Raimondo. E Raimondo era stato reggente anche del piccolo Baldovino V che fu re di Gerusalemme per breve tempo a causa della prematura morte. Quindi sotto c'è il regno di Gerusalemme e sopra la contea di Tripoli che apparteneva a Raimondo. E Raimondo era stato anche un ottimo collaboratore del precedente sovrano re di Gerusalemme Baldovino IV il re Lebroso che era stato capace di sconfiggere il più temibile degli avversari dei cristiani Saladino nella battaglia di Monguizard che scongiurò momentaneamente il pericolo della perdita del regno di Gerusalemme. Se avete avuto modo di vedere il film Le Crociate Kingdom of Heaven con Orlando Bloom il re Lebroso è quello che indossa la maschera che è interpretato da Edward Norton e fu un re certamente carismatico perché ovviamente dette un impulso forte anche alla sopravvivenza del regno di Gerusalemme che in ogni caso però si trovava sempre in uno stato di pericolo. Alla morte del piccolo Baldovino V che aveva preso le redini del regno seppur con una reggenza perché era troppo piccolo e dopo Baldovino IV sua madre Sibilla fece sì che la corona passasse al suo consorte Guido di Lusignano e questo non piacque a Raimondo reggente del piccolo Baldovino V anche per il modo apparentemente spregiudicato con il quale Sibilla aveva imposto Guido come nuovo re e Raimondo si rifiutò di porre omaggio al nuovo re e questo certamente non passò inosservato al Saladino che saputa la notizia saputa e le tensioni esistenti cercò di intrattenere dei rapporti delle relazioni con il conte Raimondo quindi Raimondo se ne tornò nel suo castello di Tiberiade e poco tempo dopo egli strense rapporti proprio con il sultano Saladino che intuì che fra i cristiani vi erano delle tensioni e queste tensioni sfociarono poi con praticamente una serie di potenziali lotte interne di pericoli di rivalità e così Saladino fece concessioni a Raimondo e in cambio chiese di poter far passare le sue truppe in territorio cristiano per dar battaglia la battaglia che si verificò il primo maggio del 1187 presso le fonti di Cresson fu una battaglia importante nella quale i cristiani subirono una cosciente sconfitta fu una sconfitta numericamente di piccole dimensioni ma lasciò presagire il peggio quindi Saladino cercò appunto di allearsi con Raimondo in primis per creare frammentazioni ulteriori fra i cristiani e in seconda battuta anche per poter ottenere il libero passaggio all'interno del regno di Gerusalemme quindi all'interno dei territori che appartenevano a Raimondo che Raimondo aveva sì la contea di Tripoli ma aveva anche dei territori presso Tiberiade territori che aveva avuto tramite la moglie Eschiva che aveva appunto questo castello di Tiberiade quindi aveva come feudo Tiberiade che si trovava all'interno del regno di Gerusalemme quindi vi era una situazione di fortissima tensione fra i baroni crociati e Saladino voleva proprio questo e quindi che succede succede che Baliano di Ibelin che è Orlando Bloom sul film le crociate era stato inviato a Tiberiade era vitale era di vitale importanza che i cristiani tornassero uniti Raimondo e Reguido avrebbero dovuto far pace per il bene del regno e per la sopravvivenza del regno di Gerusalemme quindi Baliano parte con la speranza di far riappacificare Reguido di Lusignano e Raimondo di Tripoli ed effettivamente questa pace avviene anche perché subentrano degli scrupoli riguardo proprio a Raimondo quindi davanti al dramma dei caduti cristiani il conte Raimondo decide per il bene del regno di far pace con Guido e Sibilla e qualche tempo dopo Reguido consapevole del potente esercito del Saladino ordinò il cosiddetto Eribanno ossia la mobilitazione di tutte le forze armate all'interno del regno di Gerusalemme per fronteggiare la grande minaccia del potente esercito del Saladino che aspettava l'occasione giusta per ottenere una vittoria decisiva e ricacciare in mare i cristiani. I cristiani usarono anche il tesoro del re d'Inghilterra che aveva inviato molto denaro per espiare il peccato dell'assassinio di Tommaso Becket e alla fine i cristiani riuscirono a formare un esercito di circa 20.000 fanti e 1.200 cavalieri il massimo che potevano fare di fronte ai 30.000 uomini dei quali poteva disporre il Saladino e in più i cristiani potevano contare sulla vera croce. Che cos'era la vera croce? Era una reliquia della croce di Cristo quindi un frammento di Cristo contenuto all'interno di questa grande croce che avrebbe accompagnato i crociati e quella vera croce che aveva sempre vittoriosamente accompagnato i crociati nelle precedenti battaglie e questa vera croce aveva sempre accompagnato vittoriosamente i crociati quindi ogni volta che c'era la vera croce i crociati riuscivano a vincere i nemici. Che succede quindi? Come inizia la campagna? La campagna inizia nel momento in cui i crociati si radunano nella florida e sicura Sepphoris che è un luogo dove vi era un castello crociato quindi è un luogo ovviamente all'interno del regno di Gerusalemme che abbondava d'acqua e a Saladino serviva un modo per attirare i cristiani in una trappola. Ma cerchiamo di capire cosa scatenò la voglia di Saladino di voler sconfiggere i crociati. Diverse furono le cause ma una in particolare è legata a un certo rinaldo di Chatillon signore del castello di Kerak che qualche tempo prima della battaglia di Hatin aveva attaccato una carovana musulmana violando una tregua fra cristiani e musulmani. Saladino provava un certo disprezzo per rinaldo di Chatillon che aveva appunto una serie di domini fra i quali il castello di Kerak che era considerato imprendibile che si trovava nella Transgiordania quindi al sud di Gerusalemme. L'antefatto della battaglia vera e propria si verifica il 2 luglio del 1187. Saladino volle assediare Tiberiade possedimento di Raimondo e della moglie Schiva che aveva deciso di riappoggiare nuovamente i crociati. Nello stesso momento i cristiani si trovavano accampati in una forte posizione difensiva presso Seforia nella quale i pascoli abbondavano, il verde e le fonti fornivano di acqua l'esercito cristiano. Saladino sapeva bene che attaccare i cristiani da quella posizione era rischioso e aspettava l'occasione giusta e sperava che la sua mossa avrebbe indotto i cristiani a marciare in direzione di Tiberiade. Il conte Raimondo che era con l'esercito cercò di convincere in un consiglio di guerra reguido a restare a Seforia sulla difensiva. Il consiglio di guerra era diviso, i templari forse anche feriti dalla sconfitta di Cresson pressavano il re marciare su Tiberiade ma Raimondo davanti al re disse Tiberiade mi appartiene e mia moglie si trova lì assediata, nessuno più di me vorrebbe questo ma questa è una decisione lontana da tutti noi se questo esercito si sposterà da Seforia per imbattersi nel deserto questo esercito morirà per il caldo rovente della marcia l'estate è ardente restiamo a Seforia i musulmani dopo aver conquistato Tiberiade verranno da noi ma saranno loro a dover attraversare il deserto e il nostro esercito ben rifocillato uscirà carico e potente e protetto dalla vera croce e sbaraglieremo le truppe del Saladino mio signore fra i comandanti della spedizione vi è anche Rinaldo di Chatillon il signore della Transgiordania tanto odiato da Saladino che aveva provocato poi la battaglia di Attin a causa proprio dell'attacco della caravana musulmana qualche tempo prima Raimondo era stato convincente il re lo ascoltò restare a Seforis ma nella notte successe l'imprevedibile il re riceve la visita del gran maestro dei templari il destino del mondo stava per cambiare e così fu che il gran maestro si rivolse a Guido dicendo mio signore non dovete ascoltare Raimondo egli è stato un traditore e desidera vedervi sconfitto se non lasciate questo posto Saladino verrà e vi attaccherà e se voi vi ritirerete grande sarà la vergogna e la riprovazione e qui veramente cambia il destino del regno di Gerusalemme e il corso della storia detto e fatto Guido ascolta il gran maestro levate le tende radunate le truppe si marcia in direzione di Tiberiade per soccorrere il castello di Raimondo dove vi era e schiva la signora di Tiberiade e moglie di Raimondo quando Saladino seppe questo fu colmo di gioia era quello che voleva e il sultano sapeva che la disponibilità di acqua da una parte e dall'altra avrebbe fatto la differenza Raimondo sapeva dell'errore commesso da reguido si trovava alla testa dell'esercito la vera croce al centro del convoglio e i templari chiudevano nelle retrovie l'esercito si marciò in direzione di Tiberiade quello che non avrebbe voluto Raimondo che tra le altre cose era il primo ad avere tutto l'interesse affinché Tiberiade potesse essere salvata ma Raimondo sapeva e conosceva benissimo le insidie di questo percorso Saladino lasciò un piccolo drappello di soldati a Tiberiade e mandò tre corpi d'armata contro i cristiani in marcia occorreva privare i cristiani del liquido vitale l'acqua il fianco sinistro di Saladino avanza più rapidamente degli altri per dare inizio a una serie di attacchi mordi e fuggi che alla lunga avrebbero veramente logorato i cristiani e la loro marcia nel deserto quindi da questo momento in poi inizia veramente la fase difficile della campagna che doveva essere che doveva avere come obiettivo quello di liberare Tiberiade e sconfiggere Saladino e la pressione sui crociati si fa subito sentire ma salirà con intensità man mano che la marcia andrà avanti iniziano gli attacchi mordi e fuggi che spesso costringono a segnare il passo la parte dei crociati quindi Saladino sa che è importante non andare troppo a contatto con la cavalleria crociata che è micidiale è devastante e quindi inizia con questi attacchi mordi e fuggi che iniziano a logorare soprattutto la retroguardia cristiana poco dopo Nazareth durante il cammino i cristiani incontrarono una vecchia sopra un'asina che dette loro una risposta scioccante chi sei cosa stai facendo qui vado da Saladino per ottenere il compenso per quello che ho fatto cosa hai fatto io sono una strega disse e ho fatto dei giri intorno al vostro campo per gettarvi il malocchio i cristiani chiesero di poter cancellare il maleficio ma la vecchia disse che sarebbe stato possibile solo se essi fossero tornati nel posto dove era stato fatto il maleficio e per una serie di motivi era impossibile per i crociati tornare indietro pensate al seguito di vescovi che si trovavano con l'esercito che non credevano alle superstizioni così essa venne arsa viva i cristiani tremarono cattivi presaggi sete caldo rovente tutto lasciava presagire a una disfatta imminente e annunciata i cristiani continuano la marcia arrivano alle fonti di turan come vedete ci sono delle goccioline azzurre all'interno della mappa che segnano delle fonti d'acqua i musulmani ovviamente hanno come obiettivo principale quello di controllare queste fonti d'acqua infatti vedete il fianco sinistro di saladino copre proprio le fonti d'acqua in maniera tale proprio da impedire all'esercito crociato di giungere o raggiungere delle fonti d'acqua i crociati giunsero presso turan dove c'erano delle fonti d'acqua che non erano in grado però di rifornire tutto l'esercito così si rimisero subito in marcia e in più saladino inviò la sua alla sinistra a controllare appunto anche la più piccola fonte d'acqua era una situazione veramente difficile arrivati nel borgo della mascalsia l'esercito del sultano aumentò la pressione con una violenza inaudita raimondo esortò il re a riprendere la marcia in direzione del lago di tiberiade unica salvezza per i cristiani il lago di tiberiade con la sua acqua avrebbe potuto salvare i crociati stremati dalla sete e al borgo della mascalsia la pressione veramente diventa insostenibile questi poveri crociati vengono attaccati su tutti i fronti soprattutto dal fianco sinistro musulmano quindi saladino ha studiato tutto nei minimi dettagli e non solo inizia anche una sorta di stillicidio vero e proprio da parte dei musulmani che iniziano ad incendiare delle sterpaie e a mandare questi fumi tramite i venti verso il campo crociato perché i crociati nel frattempo hanno montato un campo presso la mascalsia quindi cercano in qualche modo di proteggersi da questi attacchi continui i cristiani si asserragliarono nel loro campo privi di acqua e per tutta la notte i musulmani tormentarono fino all'alba del 4 luglio l'esercito accampato non troppo lontano dalle due alture dette i corni di attin con attacchi continui anche verso i cavalli per privare i cavalieri dei cavalli e il supplizio proseguì mandando in direzione del campo fumo derivante da rovi secchi che aumentava la tortura degli assetati crociati che stavano morendo di sete mentre invece i suoi uomini i uomini di saladino erano continuamente riforniti d'acqua grazie alle file lunghe di cammelli che collegavano i guerrieri all'acqua quindi alle fonti di tiberiade il sultano invece era accampato presso l'ubiglia ed era pronto a sferrare l'attacco decisivo fu così che il re disperato re guido di lusignano tiene un consiglio di guerra al quale partecipa anche un certo giovanni che era stato un mercenario combattente anche nelle file dei musulmani egli dice al consiglio puntate dritti i vostri cavalieri con una carica devastante verso il campo del sultano se il vessillo del saladino cadrà le sorti di questa battaglia cambieranno sicuramente e quindi anche qui questo consiglio di guerra poi in un certo senso divide perché vedremo che il raimondo non è d'accordo con giovanni vediamo perché secondo raimondo è una tattica sbagliata secondo il mercenario giovanni occorreva attaccare in massa l'accampamento di saladino e far cadere il suo vessillo mentre raimondo avrebbe voluto che l'esercito si fosse attestato in massa sui corni di attin dove vi erano anche dei resti di fortificazioni passate e da lì la cavalleria avrebbe potuto sfruttare i pendii per lanciare cariche devastanti coperta dal resto dell'esercito e in questo modo quindi l'esercito e la cavalleria avrebbero spazzato via i musulmani nonostante la sete provata dagli uomini dell'esercito cristiano ma l'esercito non fa né una cosa né un'altra infatti anziché seguire la cavalleria pronta a puntare saladino inspiegabilmente la fanteria si stacca dal resto dell'esercito non si è mai capito il motivo e la causa che ha scatenato questo e la fanteria si attesta da sola sui corni di attin e questo slegamento è fatale per ricompattare l'esercito guido la cavalleria corrono stremati verso i fanti rimasti isolati nei corni di attin che nel frattempo continuano a subire perdite pesanti stremati dalla sete dall'arsura e i superstiti crociati ormai erano privi di energie guido giunge sui corni di attin e ordina di far montare il campo saladino riesce così ad accerchiare il nemico su tutti i fronti attacca incessantemente da ogni lato crea una perfetta rete di rifornimento idrica per le sue truppe che bruciano rovi e mandano fumi verso i corni di attin e questo non fa che aumentare la sofferenza dei crociati che cercano disperatamente di raggiungere il lago di titiperiade poche miglia per poter bere ma ormai è impossibile il re fa montare la sua tenda nel disperato tentativo di risollevare il morale delle truppe cristiane ma ormai le truppe cristiane sono veramente inermi raimondo è un piccolo gruppo di cavalieri al suo seguito dopo una carica alla quale i musulmani non rispondono fuggirà dal campo di battaglia techedino si scansa letteralmente quindi fa fuggire raimondo perché conosce l'impeto della carica cristiana e non ne vale la pena in questo momento di grosso vantaggio perdere degli uomini quindi i musulmani si scansano in sostanza e raimondo può fuggire proprio quel raimondo che aveva fatto di tutto per non far marciare i soldati su tiberiade allora la battaglia era ormai compromessa tuttavia si è veramente rischiato di vivere un colpo di scena in questa battaglia perché ad un certo punto stremati disperati da questa condizione veramente incredibile i cruciati la cavalleria mette in atto una carica i cruciati la cavalleria cristiana mette in atto una serie di cariche verso il vessillo del saladino in qualche modo quello che era stato detto da giovanni era stato messo in atto e una di queste tre cariche arrivò talmente vicino al sultano che quasi i cruciati non arrivano pensate un po a cambiare le sorti della battaglia e della storia quindi pensate se una di queste cariche della cavalleria fosse arrivata a prendere il vessillo del sultano cosa sarebbe successo sarebbe veramente forse cambiata la storia e gli esiti della battaglia come diceva proprio quel mercenario quindi la disputa era quasi risolta a favore del saladino ma appunto i cruciati trovarono le forze per sferrare un ultimo disperato attacco con questi pochi cavalieri che erano rimasti e appunto una carica arrivò vicinissima al sultano che riuscì a salvarsi per pochi metri egli conosceva e temeva l'impeto dei cavalieri cristiani ma poi l'energia gli ultimi veramente rimasugli di energia indotta probabilmente più dalla disperazione che da quant'altro si esaurirono e saladino riprese completamente il controllo della situazione i musulmani poi riuscirono anche a catturare la vera croce la reliquia che era così importante per i cristiani che aveva sempre accompagnato i cristiani durante le loro battaglie e grazie alla quale loro credevano di vincere ogni battaglia proprio perché protetti dalla vera croce quindi una reliquia che aveva un valore simbolico enorme ma cade nelle mani dei soldati del saladino e poco dopo cade anche la tenda del re che aveva fatto montare nella speranza di risollevare un po il morale dei suoi soldati verso le tre del pomeriggio del 4 luglio del 1187 l'esercito cristiano non esiste più baliano di ibelin fugge dal campo di battaglia l'orlando bloom del film le crociate saladino vince una battaglia decisiva che gli permette pochi mesi dopo di riconquistare gerusalemme 88 anni dopo la conquista dei crociati l'esercito crociato era stato completamente annientato da saladino poi tra le altre cose ci sono delle differenze fra la storia vera e la battaglia di attim perché nella film baliano in realtà non partecipa alla battaglia di attim nella realtà invece baliano è fra i condottieri che parteciparono alla battaglia di attim dopo la battaglia saladino incontra reguido e fra i prigionieri vi era anche l'odiato rinaldo di chatillon saladino vede che reguido è provato e così dà al re una coppa d'acqua fresca che poi prende rinaldo saladino disapprova dicendo a rinaldo che lui non ha dato la coppa a lui non ha dato la coppa a rinaldo e rinaldo forse risponde al sultano in maniera sgarbata comunque in un modo che non piace a saladino e saladino subito dopo come aveva promesso a se stesso uccide rinaldo con la sua stessa spada affonda un fendente insomma in ogni caso poi i soldati del saladino finiranno rinaldo reguido si spaventa ma saladino lo rassicura dicendo che un re non uccide un altro re quindi puoi stare tranquillo di questo guido di lusignano ebbe salva la vita ma il regno di gerusalemme in virtù di questa decisiva sconfitta è perso è perduto poco dopo la città più importante del regno di gerusalemme gerusalemme cadrà nell'ottobre del 1187 e tempo dopo e successivamente qualche tempo dopo saladino dovrà affrontare un nuovo avversario ma molto più temibile di guido di lusignano riccardo cuor di leone a seguito della terza crociata che doveva avere come obiettivo per i cristiani la riconquista di gerusalemme ma la battaglia di attin è un momento decisivo della storia perché da quel momento in poi i crociati recupereranno gerusalemme ma non con la forza bensì con la forza dei trattati grazie a federico secondo di svevia nel 1229 questa è stata la battaglia di attin e spero che spero di aver creato un quadro chiaro di questo importante evento storico grazie a tutti